Ben ritrovati in studio, io ho un'altra ospite, oggi molto gradita, è la dottoressa Anna Laura Mattesini, food blogger. Sì, esattamente, buongiorno. Benvenuta, benvenuta, grazie per aver accolto il nostro invito. Allora, come mai questa passione per il cibo e l'idea proprio di diventare blogger? La passione per il cibo è nata essenzialmente dalla mia passione per la Calabria, perché io sono un'innamorata di questa regione e mi piace parlare soprattutto del cibo calabrese, dei prodotti di eccellenza calabresi e nel mio lavoro faccio il possibile per pubblicizzarli. Ecco, lei sarà una delle organizzatrici, sono diciamo una persona cardina, di un evento importante che si terrà a partire dal 30 aprile all'Hotel Preside di Rende, in provincia di Cosenza, ed è la fiera del Gluten Free. Ci racconti che cosa sarà? Sarà una fiera dedicata appunto essenzialmente ai prodotti senza glutine e quindi alle persone che soffrono di celiachia o comunque di intolleranza al glutine. Ma anche alle persone che vogliono provare ogni tanto a disintossicarsi un po' da questo che ormai è ritenuto quasi un veleno, anche se in realtà è necessario la nostra alimentazione. Ogni tanto fa bene anche staccare un attimino. Ecco, c'è una diciamo notevole incidenza di persone che possiamo definire disturbo? Che cos'è la celiachia? Sì, è un disturbo alimentare, è una patologia, in effetti è stata inserita fra le malattie rare anche dal Servizio Sanitario Nazionale. Ecco, cosa non devono assolutamente fare? Non devono assolutamente mangiare glutine, qualunque prodotto contenente glutine e in questo devono stare molto attenti anche quando acquistano i prodotti che teoricamente dovrebbero essere senza glutine perché spesso il glutine o derivati del glutine vengono utilizzati anche come aggreganti per creme e appunto per prodotti dove si pensa che il glutine non ci sia. In realtà bisogna stare molto attenti all'etichetta, ci deve essere proprio scritto come si articolerà questa fiera? Ovviamente sarà dislocata in diversi giorni e ci sarà un'attenzione particolare verso un argomento, verso un tema, come sarà l'andamento? Spieghiamolo. Allora, durerà due giorni, 30 aprile e primo maggio, presso l'hotel Presidente di Rende e ci saranno diversi stand dedicati ai produttori, dedicati a cooking show, dedicati anche alla regione dove si terranno delle riunioni informative e dove ci aspettiamo la partecipazione del pubblico dove daremo tutte le informazioni utili per affrontare e per curare al meglio questa patologia. Ecco, quanti punti vendita ci sono in Calabria per soddisfare le esigenze di chi soffre di questo disturbo? Purtroppo ancora non molti, però devo dire che la Calabria è molto avanti in questo stanno aprendo molti esercizi commerciali dedicati proprio agli alimenti senza glutine così come gli alimenti biologici, agli alimenti per vegani insomma c'è molta attenzione diciamo a questa nuova forma di nutrizione e inoltre stanno aprendo anche molti punti di ristorazione, cosa che qui effettivamente mancava. Bene dottoressa, allora mi seguiremo in questa avventura Certamente, vi aspetto, vi aspetto tutti Quindi ricordiamo l'appuntamento? 30 aprile, primo maggio, Hotel President Grazie, grazie ancora dottoressa Laura Mattesini e noi ci vediamo al prossimo appuntamento sempre qui su Calabria News 24 in forma Grazie, grazie ancora Grazie Grazie a tutti